Vissuto tra il 1922 e il 2010, Pierre Hadot è stato un importante filosofo storico della filosofia e anche scrittore francese. Fu direttore dell'Ecole Pratique des Autetudes dal 1964 al 1986 e fu poi nominato professore al Collège de France nel 1982. La sfera di ricerca, di indagine e di lavoro intellettuale di Pierre Hadot riguarda principalmente la filosofia antica. Pierre Hadot si occupa soprattutto del nesso tra la filosofia greca e la sua ricezione nella letteratura latina. Pierre Hadot è stato uno dei principali lettori di Wittgenstein, non soltanto ha letto Wittgenstein ma di più l'ha introdotto in Francia alla fine degli anni 50 del secolo breve e lo ha fatto attraverso una serie di conferenze svoltesi presso il Collège Philosophique diretto da Jean Val. In particolare nelle sue lezioni dedicate a Wittgenstein, Pierre Hadot ci restituisce un'immagine del filosofo viennese tutta centrata sulle nozioni di gioco linguistico e di forma di vita. In tal guisa Pierre Hadot ci restituisce di Wittgenstein un'immagine particolare, forse anche piegata agli interessi ermeneutici sviluppati dallo stesso Pierre Hadot, in particolare per quel che concerne quella che a ben vedere è la tesi centrale, il nucleo fondativo della filosofia di Pierre Hadot, ossia il concetto di esercizio spirituale. In effetti la tesi principale sviluppata da Hadot, esposta precipuamente nei due testi Esercizi spirituali e filosofia antica e poi in Che cos'è la filosofia antica, la tesi principale, dicevo, è che la filosofia nacque nell'antica Grecia come stile di vita, non quindi come ricerca strattamente teoretica, come magari emerge da una lettura moderna di Aristotele presentato come scienziato in camice antelittera, no, la filosofia nasce in Grecia come esercizio di vita, vale a dire, spiega Pierre Hadot, come saggezza declinata come saper vivere, una sorta di unità originaria, di teoria e prassi, tipica di un'epoca in cui la filosofia venne al mondo per risolvere problemi. La meraviglia zauma da cui nasce la filosofia è una meraviglia insieme pratica, possiamo dire così, che riguarda la soluzione di problemi concreti, non dunque una mera riflessione astratta fine a se stessa, come invece venne sviluppandosi solo a un certo punto dell'evoluzione della storia della filosofia occidentale. La filosofia greca, e poi quella che le scuole romane ereditarono, serve alla trasformazione dell'uomo nella vita quotidiana, è una filosofia improntata alla prassi, all'azione, all'azione nel mondo. La filosofia greca quindi nasce con una valenza insieme teoretica e pratica. Le opere filosofiche del passato non sono composte allora per esporre un sistema in sé compiuto, al contrario mirano a diffondere un sapere formativo in grado di costituire l'uomo, di formare uomini in senso compiuto. Ed è in vista di questo obiettivo che il filosofo antico provava, spiega Pieradot, a insegnare un approccio alla lettura facendola diventare un'azione di trasformazione del proprio sé. Questo è ciò che Pieradot intende allorché mette a tema l'esercizio spirituale. L'esercizio spirituale impegna tutte le facoltà dell'individuo, non solo la parte teoretica, non riguarda solo il bios teoreticos, ma riguarda la vita nella sua interezza. L'uomo grazie agli esercizi spirituali si forma e si trasforma, modellando la propria individualità, scolpendo la statua che egli stesso è. Per gli stoici, ad esempio, la filosofia come sappiamo e come Pieradot mette in luce è suddivisa in logica, fisica ed etica. Ma ciascuna di queste discipline non deve essere intesa come chiusa in sé stessa. Al contrario, ciascuna di queste discipline è un tutto unico che va vissuto appieno con consapevolezza di sé. E ciò risulta limpidamente dall'immagine stessa che gli stoici utilizzavano per determinare la propria tripartizione della filosofia. Gli stoici dicevano che la filosofia tripartita, secondo logica, fisica ed etica, era simile a un uovo. Un uovo le cui parti, lungi dall'essere sconnesse fra loro, sono in relazione reciproca, come il tuorlo, il guscio e appunto la parte stessa e l'albume, naturalmente, come il tuorlo, l'albume e il guscio dell'uovo. Sicché il discorso sulla filosofia non è la filosofia. Possiamo dire che l'Occidente ha perso di vista la filosofia come esercizio spirituale, come era presso i greci, e l'ha confuso con il discorso sulla filosofia, con una sorta di filosofia alla seconda potenza. Un po' la differenza che c'è tra il fare musica e il leggere uno spartito. Ecco, i greci facevano musica, noi moderni invece, suggerisce Pieradot, leggiamo gli spartiti e non siamo più in grado molto spesso di suonare, per rimanere alla metafora musicale. In altri termini, secondo Pieradot, in Grecia le teorie filosofiche nascono e restano stabilmente al servizio della vita filosofica. La vita filosofica, il bios filosoficos, è una vita che è al tempo stesso teorica e pratica. Con l'epoca ellenistica e con lo sviluppo della filosofia a Roma, abbiamo la filosofia che si manifesta e si esprime come modus vivendi, come una ars vivendi, vale a dire come una maniera d'essere in senso compiuto. In effetti, spiega Pieradot, la filosofia antica presentava apertamente questo carattere, almeno a partire da Socrate, il cui obiettivo non era semplicemente quello di sapere, ma quello di formare, di far valere la paideia, l'educazione integrale dell'uomo, tema sul quale Werner Jäger ha sviluppato studi tuttora di primissima importanza. La filosofia antica propone all'essere umano un'arte della vita, dice Pieradot, l'esercizio spirituale è l'elemento fondamentale. Grazie alla filosofia come stile di vita, come sapere pratico, l'uomo si forma. Ben diversamente, la filosofia moderna è quella che si presenta come un sapere tecnico, specialistico per addetti ai lavori e dunque perde il suo legame con la vita. Nella Grecia classica si poteva essere filosofi in quanto uomini, da che tutti miravano alla completezza e alla perfezione del proprio vivere. Nella modernità invece la filosofia diventa un compito tecnico per pochi addetti ai lavori e quindi si sgancia dalla sua valenza teorico-pratica. A questo riguardo Ado sottopone una sferzante requisitoria alla filosofia moderna e i suoi protagonisti, i suoi eroi, diremmo con Hegel, da che essi scorgono nella filosofia un semplice sistema di proposizioni astratte, puramente teoretiche, sideralmente lontane dalla vita palpitante con tutti i suoi problemi reali. E quindi Ado propone, a seguito di questa critica spietata dei filosofi moderni, un ritorno alla Grecia classica o se non altro una ripartenza dalla filosofia greca come esercizio di vita, come esercizio spirituale. Così scrive testualmente Pier Ado in Esercizi spirituali e filosofia antica. Tradizionalmente coloro che sviluppano un discorso filosofico senza cercare di mettere la loro vita in rapporto con il discorso e senza che il loro discorso derivi dalla loro esperienza e dalla loro vita vengono chiamati sofisti dai filosofi. Ecco allora che su queste basi si può ben dire che quella moderna sia soprattutto una sofistica più che una filosofia. In particolare i filosofi dell'antichità cercavano di armonizzare il loro discorso con la vita. Erano filosofi musicali, per dirla con il lachete di Platone, dove Socrate viene detto musicos aner, uomo musicale, da che dall'armonia fra logoi ed erga, tra parole e azioni, scaturisce una magnifica melodia. Per i filosofi antichi la filosofia era anzitutto una forma di vita, solo secondariamente un discorso concettuale. E tuttavia anche quel discorso concettuale mai poteva fare astrazione completa dall'esperienza vissuta, dalla vita concreta. Sicché per Pier Ado se la filosofia si muta in riflessione sulla correttezza logica delle proposizioni e quindi in discorso meramente astratto, allora essa snatura se stessa, si perde, non si realizza, diventa qualcosa di diverso e rischia, come avviene nella modernità, di mutarsi in una disciplina scolastica, istituzionale, sclerotizzata, lontana dalla vita e quindi negante la propria stessa essenza originaria di filosofia. Diventa un sapere astratto che si interessa solo della speculazione e non dell'esistenza quotidiana degli esseri umani in rapporto con sé, con gli altri e con il mondo esterno. Ecco perché occorre ripartire dai greci, ecco perché occorre per Pier Ado tornare a prendere le mosse dalla filosofia classica, dal sapere concreto, dalla saggezza, dalla filosofia come esercizio spirituale. Per questo la filosofia aurorale dei greci, spiega Ado, ha di fatto realizzato una unità armonica perfetta di vita e riflessione filosofica. Non si dava contrapposizione tra vita e filosofia, al contrario, si armonizzavano tra loro. La vita stessa si configurava come una vita filosoficamente vissuta, in cui la filosofia era in grado di portare alla pienezza dell'essere la vita. Di giorno in giorno educava a vivere, non staccava l'uomo dalla vita, ma gli permetteva di vivere consapevolmente nel modo più coerente. Sicché per l'essere umano, dice Pier Ado, è più che mai importante oggi tornare a imparare a vivere una vita umana attraverso l'esercizio della filosofia. La filosofia come esercizio, come ascesis, come esercizio, come esercizio psicagogico, in grado di sollevare l'anima, di educare la nostra anima. Sicché la posizione filosofica di Ado può, in questo modo, essere una posizione teoretico-pratica, che propone un modello da cui ripartire, ma può anche essere, come infatti è, una rilettura originale dell'intera storia della filosofia occidentale, letta come un distaccamento da questa aurorale sapienza pratico-teoretica dei greci. Così leggiamo in Esercizi spirituali e filosofia antica. Lo storico della filosofia dovrà cedere il posto al filosofo. Il filosofo deve sempre restare vivo nello storico della filosofia. Quest'ultimo compito consiste nel porre a se stesso, con lucidità maggiore, la domanda decisiva. Che cos'è filosofare? È una domanda certamente fondamentale, alla quale possiamo provare a rispondere ripercorrendo la via che in origine fu attraversata dai filosofi greci. Dobbiamo tenere unite, senza mai spezzare questo nesso, la vita e la filosofia. Dobbiamo quindi ripartire dalla saggezza greca, smarcandoci dall'erramento dei moderni e dalla loro esiziale separazione della teoria dalla vita, della teoresi dalla prassi. Adò, di fatto, nella sua ricostruzione originale della storia della filosofia occidentale, oltre a sviluppare l'essenza della filosofia greca come filosofia pratica, come saggezza pratica, come esercizio spirituale, sostiene anche fondamentalmente la continuità tra il mondo greco e il mondo cristiano. Si oppone a quella tesi pur dominante che tende a presentare Atene e Gerusalemme come contrapposte, quasi come se si desse un divario incolmabile fra il sapere greco e il sapere, la fede cristiana. In particolare, Adò, che studia attentamente il mondo tardio antico, riservando grande attenzione alla figura di Marco Aurelio, Marco Aurelio lo stoico sul trono, e studia altresì con attenzione il passaggio della filosofia greca nel mondo tardio antico al mondo cristiano, ecco, mette bene in luce come l'idea degli esercizi spirituali dei greci, segnatamente degli stoici, riceva nuova vita con i cristiani. I cristiani riprendono, mutuano questo tema degli esercizi spirituali e lo sviluppano secondo un nuovo impulso. Sicché tra mondo antico, greco, romano da una parte, e mondo cristiano non si dà una rottura, al contrario, dice Adò, si dà una continuità, e ciò in ragione del fatto che il mondo cristiano ha ereditato, pur sviluppandolo secondo nuove direzioni, il pensiero elaborato dai greci. Questa tesi è stata sviluppata da altri autori, anche se non è mai stata in vero una tesi dominante nel panorama della storia della filosofia. In Italia è stata sviluppata, ad esempio, da Giovanni Reale, il quale pure ha sostenuto che tra mondo greco e mondo cristiano, più che rottura, si dà continuità, pur nelle differenze naturalmente. E questa tesi, dicevo, è sviluppata ampiamente anche da Pierre Hadot, che legge nella filosofia cristiana una continuazione, pur nella differenza, rispetto a quella greca.